Contro l'aborto e per l'adozione. Decine di attivisti dell'associazione ProVita hanno sfilato per le strade di Varsavia raccogliendo l'invito dell'Arcidiocesi della capitale polacca. L'ennesima manifestazione è stata preceduta da una campagna sui social media per promuovere le adozioni. Attualmente la legge polacca consente l'aborto in tre circostanze, in caso di deformazione del feto, in caso di pericolo per la madre o di una violenza sessuale, ma i movimenti chiedono il divieto totale provocando un acceso dibattito nel paese.